Stati Gossè con noi a Cannes, lui ha qui due film, vorrei parlare di due film in Cannes? Sì, abbiamo due film in Cannes, uno è called Ten Minutes, che stanno con Oscar winner Luca Gassi, Glenn Plummer e Ken Falcon of Selma. L'interpreter è il tuo padre che ha avuto l'Oscar prize con l'Officiale Gianni Huomo. Sì, è vero, ha avuto l'Officiale e il Gentleman. Sì, è vero, ha avuto l'Officiale. È un drama principale, con un convict e un attore, e poi hanno bisogno di capire qual è la vera. Il secondo film è called Departure, e è il primo film, con un'initiative globale, che è scoperto per l'iPhone. Sì, è fantastico. Sì, come per me, che sto facendo solo con l'Officiale? Sì, è vero. È molto divertente, ha presentato alcuni problemi, ma è stata un'attività, di cercare i problemi, per ottenere il miglioramento possibile, e le persone sono impressioni, si vedono, e pensano, non credo che ho avuto l'Officiale. La città è ricordata di un'ottima, come è la città, l'initiative. Sì, la città, mi ricorda di alcune parti di L'Occidentale, come Malibu. L'acqua è una grande, l'acqua, la città, la città, la città, il gianno è così male. E ha, comprava in Los Angles? Mi piace, ho cresciato l'Officiale. È molto bello, un'acqua, questo è il problema, è difficile per occupare il bus. I know, I know, I know. What about your next film? The next project is one called The Beautiful Thorn, and that should be ready next month. And then I have a documentary coming out, a feature documentary called American Addict 2, it's about prescription drug addiction. And we have Matthew Perry from Friends in it, and Ron Paul and Jonathan Davis of Thorn. So, those are the things coming up. So, Sethi, you told us that your movie was done with the telephone, so shall we show to our telespectatori? Sure, so you download the app called Filmic Pro, and it helps you with the focus, white balance, exposure rate, everything from... So far I see just a black screen, so... So basically what you do, you can kind of see out to the palais right there. Okay. See it? So basically what you do is you slide the phone into the case like this, here. See? Okay. And then you take the lens, this is a wide-angle lens. You attach it to here. Wow. That's fantastic. So this is a zoom. Yeah, it's a wide-angle zoom. And it gives you a wide-angle lens, so you could... See? Yes. 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 And you can attach it to a tripod here. You can put it on a steadicam, we had a little steadicam. You can attach a light to it. That's absolutely gorgeous. Yeah. It's something so new, eh? Yeah. When... If you see on my Facebook page, we attached a six-foot prime cannon lens to it to get some shots for the depth of field. And, yeah. Okay. So, let's move our telespettatori to see Facebook. Your Facebook. Yes. You want me to go there? Yes. Okay. Hold on. So, if they want to find you? You can go to my Facebook page. It's S-A-T-I-E, last name G-O-S-S-E-T-T. Satigose. Yes. So, very good and thank you so much. Ciao! See you.